E siamo Emanuele Sartoris e Marco Bellafiore, applauso, siamo qui all'Osteria Radezzana e ringraziamo Franco già che ci siamo, applauso, e vogliamo dedicare questo brano che si chiama La Cornice di Marco Bellafiore all'ospedale Sant'Anna e a tutta la fondazione medicina a misura di donna e questa è una vitamina G che si è realizzata dal vivo apposta per voi, ve la facciamo ascoltare. Grazie. 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 Grazie.